Ok, vabbiamo! Contatto! Contatto! Abbattuto, abbattuto! Mi chiamiamo... Battuto, abattuto! Sono congegeno! Non vedo da dove risparano, sinistra e sinistra, fatti, un altro, un altro, un altro. Attenzione all'edificio, che sparano anche dalla finestra, capito? Vai Wolf, vai il muretto. Tato! Tato, compound, salve. Altro! Uno, uno dentro. Un po' pesco. Mi sto carico Wolf, mi hanno scenduto in su. Stato abbattuto. Ottimo. Quasi, schifo'ste. Sushi. Anasahi. 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 Questa è? Ci? Approcrato al mente No, non lo so, non lo so Non lo so, non lo so E' il hotel, provate E' il suo show E' il mio momento E' un altro contatto di Gorghudon E' il mio momento E' un altro contatto di Gorghudon E' un altro contatto di Gorghudon E' il mio momento Intimino da dire Via, 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 insieme Vai, insieme Extra libero Per la casa un po' Per la casa un po' E' un po' E' un po' Prende Per la casa un po' Un po' Un po' No No Parano Patti patti Un bel Grazie a tutti